Musica Mercoledì 13 febbraio 2019, buongiorno, bentrovati, nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, come sempre apertura dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, grande spazio anche oggi a 48 ore, poco più dal voto ovviamente c'è l'analisi sul risultato elettorale che ha premiato il centrodestra con il nuovo presidente della regione Marco Marsilio in quota Fratelli d'Italia e i riflessi del voto regionale si spostano anche a Pescara perché a maggio ci saranno le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo sindaco, proprio poche ore fa Salvini aveva parlato, aveva detto che spettava la Lega la scelta del candidato sindaco di Pescara, è arrivata proprio in queste ore la risposta di Forza Italia, sindaco Forza Italia stoppa la Lega, questo il titolo di apertura dell'edizione di Pescara del centro, Pagano coordinatore regionale del partito replica l'annuncio di Salvini, la candidatura dice Pagano spetta a noi, vediamo anche in alto diversi titoli che riguardano la politica, regione nuova aggiunta, c'è la rosa dei nomi, parte la trattativa e poi Quagliariello in Abruzzo può nascere un PDL 2.0, parla il deputato di centrodestra e poi c'è Lira di Grillo, Lira di Grillo dopo il voto in Abruzzo, gli abruzzesi ci restituiscano i nostri soldi, ha detto Beppe Grillo, vediamo a centropagina cambiando argomento, Sara la scienziata di Francavilla in missione in Cina, la professoressa della D'Annunzio è l'unica italiana della spedizione nel paese asiatico dove studierà i fondali del mare cinese, vediamo le cronache pescarese nei guai, multato 100 volte per la ZTL violata, paga 12 mila Euro e poi Penne, Brioni, Sciopera, l'80% dei lavoratori e poi San Giovanni Tiatino, bambini abusati, 12 anni all'allenatore, lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, vediamo la prima pagina dell'edizione di Chieti e Lanciano Vasto, il titolo di apertura riguarda la cronaca giudiziaria, bimbi abusati, 12 anni all'allenatore, condannato l'istruttore di baseball aperta, una nuova inchiesta, vediamo poi a centropagina, camion sbanda sul ghiaccio, fermi pendolari di Vasto, le cronache Chieti, nuovo sindaco, primi accordi per il candidato Vasto, ecco i rinforzi in strada contro furti e rapine, vediamo poi più in basso, ha una pensione da miseria e si toglie, la vita è accaduto ad Avezzano, vediamo anche un altro titolo in alto, si torna a parlare delle elezioni regionali, Marsiglio presidente e neopresidente della regione, ora dice assunzioni nelle ASL, il governatore detta le priorità e avverte i comuni prolegnini, l'aria è cambiata, questa dunque la pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro, siamo a quella di Teramo, picchiata dopo l'udienza di divorzio, una donna aggredita dall'ex marito davanti al tribunale di Teramo e poi l'arbitro Teramano di Serie A Calvarese, dalla Serie A l'azienda di integratori, il fischietto Teramano diventa imprenditore, vediamo nelle cronache Teramo, rincorre il busse ma in mezzo gira e lo rivolge e poi ritroviamo anche sulla prima pagina di Teramo del centro questa tragica notizia che arriva da Avezzano con questa donna che si è tolta la vita e poi il calcio di Serie C, il Teramo ieri sceso in campo nel turno infrasettimanale di campionato in quel di Fano, brutta prova dei biancorossi battuti per 1-0 e ora i play-out sono a due punti, vediamo la prima pagina dell'Aquila, Avezzano sul Mona del centro, in questo caso il titolo principale riguarda proprio quanto accaduto ad Avezzano, questa sessantenne che percepiva 290 euro mensili, ha una pensione misera, si uccide, prima ha avvisato il vicino, all'Aquila dopo il voto regionale il sindaco Biondi deve cambiare mezza giunta, ancora l'Aquila, la cronaca giudiziaria palpeggia una ragazza condannato e poi San Benedetto Dei Marsi scomparso dopo un litigio con la madre, vediamo più in basso, sul Mona, 82 anni, aggredita e ferita nella sua villa, vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero 5 Stelle, si apre il processo, la Marcozzi ha la seconda sconfitta, non è colpa mia ma della legge elettorale, ha detto la candidata Presidente del Movimento 5 Stelle, nuova giunta tra i quattro assessori alla Lega, Marsilio chiude agli esterni e a Pescara in pole position per la poltrona di sindaco c'è Luca De Renzis, candidato della Lega alle regionali, non è riuscito De Renzis ad entrare all'emiciclo ma partirebbe in pole position per la carica di sindaco a Pescara, almeno per quanto riguarda i nomi indicati dalla Lega, vediamo anche l'articolo di SPAL, il turismo scommette sulla nautica e sui resort, vediamo poi a centro pagina, Pescara il sito web finisce nel mirino e-commerce, truffate oltre 160 clienti e poi picchia la moglie e minaccia l'avvocato di lei, terramo l'aggressione davanti al tribunale, poi Chieti violenza, 12 anni all'allenatore, in alto vediamo altre notizie, Brioni lavoratori in sciopero toccata a quota 70%, poi vedremo anche un servizio a tal proposito, Rigopiano archiviazione di D'Alfonso si discute il 10 luglio e poi calcio, Pescara mal di pareggite domani, intanto ci sarà una nuova iniziativa delle foto dei giocatori con i tifosi, vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, siamo a Teramo e nel Terramano, gli sfollati aumentano ancora, a febbraio sono diventati 6.483 di cui 5.320 terramani con 4.441 cas, dunque la maggior parte degli sfollati risiede proprio nel capoluogo, vediamo ancora Teramo investito da un bus alla rotatoria, grave 48enne e poi strade dissestate, provinciale 36 per Cermignano, chiusa per Frana e poi non pervenuti, si parla dei biancorossi del Teramo, brutta prova della squadra di Maurizzi battuta per 1-0 dal Fano, allenato dal pescarese Massimo Epifani e poi totogiunta, torniamo a parlare di politica, quaresimale in prima fila per l'assessorato regionale, quaresimale che è stato il secondo più votato nella nostra regione dopo il candidato del Movimento 5 Stelle Pettinari e poi lo stalker Bresciano finisce in carcere, perseguitava da 3 anni una 35enne di Tortoreto. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere invece i titoli dei giornali nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, TAV e Reddito, Governo spaccato, i riflessi del voto in Abruzzo si stanno riverberando anche a livello nazionale, intanto TAV e Reddito di cittadinanza, come detto Governo spaccato, costi benefici bocciata la Torino-Lione, emendamenti del Carroccio contro il sussidio, l'ira del Movimento 5 Stelle e poi vedete la storia, Bresciano fondatore di Talent Garden nella lista di Forbis, Davide tra gli under 30 più influenti in Europa e poi vedete di spalla la lettera del Papa al Presidente venezuelano, accordi disattesi, vedete questo titolo con la foto tra il Papa e il Presidente venezuelano Maduro, vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Repubblica, il Parlamento dell'Unione Europea processa Conte, il Presidente del Consiglio, sei un burattino, voi lobbisti la risposta, vedete poi più in basso, il ciapo 10 volte colpevole passerà la vita in un carcere americano, il ciapo Guzman al momento dell'arresto, 5 anni fa, questo è il verdetto arrivato dal Tribunale di New York, il fatto quotidiano, i dati bocciano il TAV, il Partito degli Affari se la prende con i dati, vediamo anche il mattino di Napoli, la TAV paralizza il governo, vedete questo è il titolo di apertura del quotidiano napoletano, bufera sulla bocciatura della Commissione Toninelli, costi superiori ai benefici per 7 miliardi, vediamo anche il prossimo quotidiano che è la verità, la Germania mette le mani sul nostro oro, l'economista tedesco Daniel Grossi in TV, da anni c'è chi pensa ad usare le vostre riserve come garanzia per il debito, vediamo poi più a centro pagina, Renzi torna con un libro, non ho sbagliato nulla dice l'ex Presidente del Consiglio, libero, olio taroccato e latte straniero uccidono la nostra agricoltura, lo Stato continua a snobbare i contadini, qualche giorno fa c'era stata la clamorosa protesta dei produttori di latte in Sardegna che avevano sversato migliaia di litri di latte proprio per le strade e poi vedete a centro pagina, cambiando argomento, Montalbano in TV batte pure Baglioni, ennesimo successo del commissario Siculo, vediamo il manifesto in Italia a rischio, la libertà di stampa, rapporto del Consiglio d'Europa e poi analisi logica, il TAV non conviene, la commissione tecnica incaricata dell'analisi costi benefici, boccia la nuova linea, Torino Lione, vediamo anche il messaggero nazionale, TAV bloccata fino all'europea, la commissione del MIT boccia l'opera e poi autonomia, lo stop del tesoro su IRPEF e IRAP decide lo Stato e poi ho anche un richiamo di sport, Zaniolo Superstar trascina la Roma 2 a 1, doppietta del Bebi, Porto Capò, quarti più vicini per quanto riguarda la Champions League dei giallorossi, il sole 24 ore, quota 100, le pubbliche amministrazioni pagano un miliardo in più di TFR, vediamo poi TAV, scontro sui costi superiori benefici, le imprese e così perdiamo 50 mila posti, il tempo di Roma, Salvini prova la rivoluzione fiscale nella chat dei fedelissimi, ribattezzata a tavola economia IRPEF al 15% fino a 100 mila Euro, vediamo la stampa di Torino, l'Europa umilia Conte, Burattino scontro nell'esecutivo sulla TAV, Di Maio tradito da Salvini, Rixi sottosegretario della Lega, follia, fermare ora l'opera. Prima parlavamo proprio della protesta dei pastori, degli agricoltori sardi per le quote latte e questa protesta è arrivata fin sotto i palazzi romani, vedete che i pastori sardi hanno bloccato le strade per svuotare le cisterne e sversare in strada tanto latte proprio per questa clamorosa protesta. Secolo.it, PD più droga per tutti, mossa disperata del PD per tenere unita la sinistra e richiamare l'ala del Movimento 5 Stelle vicina a Fico, scrive il quotidiano vicino al centrodestra. Avvenire, alte contestazioni, l'analisi chiesta dal Meet, boccia il progetto TAV, saldo negativo da 7 miliardi, Conte attaccato a Strasburgo, Burattino, la replica, rispondete alle lobby. E poi reddito di cittadinanza con paletti e correzioni, gli emendamenti di Lega e Movimento 5 Stelle alla Camera allargano i cordoni per famiglie e disabili. Lasciamo il quotidiano della conferenza episcopale italiana, torniamo al centro, a pagina 2 ovviamente l'analisi e politica del voto con le regionali che hanno sancito la vittoria del centrodestra con Marco Marsilio che è il nuovo Presidente della Regione, proprio il neopresidente della Regione ha conquistato ben 231 comuni, Legnini vince in 70 comuni, Salvini, Gamberale, la Pontida d'Abruzzo nel centro del Mediosangro, la Lega, è arrivata addirittura al 63-39% delle preferenze, il Capitano ringrazia in TV. Marsilio avverte i sindaci pro Legnini che la situazione è cambiata e poi i tempi, serve ancora un mese, la proclamazione entro 10 giorni, ma c'è già chi preannuncia ricorsi, c'è anche un riconteggio delle schede come spesso accade in queste situazioni. E poi le spine, perché c'è qualche spina già nel centrodestra, quella di Marianna Scoccia, sono il resto nella maggioranza, ha detto la nuova eletta consigliere regionale dell'Udc, eletta con più di 5 mila voti, la candidata che Forza Italia e Lega non volevano, Rotondi un buon risultato, nonostante gli alleati fossero tutti contro di noi. Si è parlato di questo e di altro, proprio nella conferenza stampa che Democrazia Cristiana, Udc e Idea avevano convocato per ieri mattina a Pescara e hanno parlato ai nostri microfoni proprio l'onorevole Gianfranco Rotondi che è proprio Marianna Scoccia, eletta consigliere regionale in quota Udc. Possiamo vedere il servizio. Onorevole Rotondi, a mente fredda, come giudica il risultato del vostro movimento? Buono, inferiore alle aspettative, ma buono. La democrazia cristiana è stata combattuta da tutto il centrodestra che ha fatto la campagna elettorale contro di noi piuttosto che contro gli avversari. Nonostante tutto siamo rimasti in piedi e abbiamo eletto proprio la persona che loro non volevano quindi è andata bene nei limiti delle possibilità. Ora bisognerà cercare di ricucire questo rapporto proprio con il centrodestra anche perché la candidata che è stata eletta era stata proprio messa all'indice proprio dai vostri compagni di avventura. Marsilio deve tenere unita la sua maggioranza di cui la signora Scoccia fa parte a tutti gli effetti poi se la sbricheranno un po' loro. Noi abbiamo eletto un consigliere certo non rivendicheremo presenze di governo, è corretto che il governo lo faccia Marsilio come ritiene e avrà il consenso in consiglio della signora Scoccia come doveroso da parte di un consigliere eletto nella maggioranza. Non ho ascoltato, non ho voluto raccogliere nessun tipo di preoccupazione in campagna elettorale quindi figuriamoci se vogliamo farlo adesso. Oggi siamo stati eletti, comunque abbiamo una rappresentanza in regione e questo è importante anche perché 5.257 preferenze e 10.300 sulla provincia dell'Aquila insomma credo che non è uno scherzo, è un risultato assolutamente importante quindi oggi iniziamo a gettare giù le basi per un nuovo lavoro. Ha parlato con il neopresidente Marsilio? Non ancora non abbiamo avuto modo, ieri sono stata assalita da tutta la popolazione della Valle Peligna quindi sicuramente avremo modo di sentirci noi nei prossimi giorni. Restiamo in casa del centrodestra, la felicità di Fratelli d'Italia che ha espresso anche il candidato presidente ora presidente a tutti gli effetti in attesa solo della proclamazione ufficiale Marco Marsilio dicevamo la felicità di Fratelli d'Italia, grande risultato il partito in crescita ovunque all'Aquila è secondo, questa è l'analisi del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Sigismondi e poi in fondo nella parte bassa della pagina c'è l'intervista al senatore Ghetano Quagliariello leader del Movimento Idea che auspica che in Abruzzo nasca un PDL 2.0, sarebbe un popolo delle libertà che parte dal basso e parte una stoccata a rotondi che abbiamo appena adesso ascoltato. E ora Grillo rivuole i 700 mila Euro, il comico chiede agli abruzzesi di restituire i soldi donati dai 5 Stelle. Per l'aggiunta intanto è già partito il Totonomi, posti assicurati per i mister Preferenze, via libera quindi a Quaresimale, De Annuntis, Imprudente e Campitelli. Vediamo poi in basso, Marsilio Laraggi, non siamo più la pattumiera di Roma, lo stop del neogovernatore al sindaco di Roma e lo stop ai rifiuti in particolare della capitale. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara dove ovviamente c'è un riflesso diretto del voto regionale perché si avvicina a questo punto a grandi passi anche l'appuntamento elettorale del capologo adriatico con le amministrative e poche ore fa c'era stato l'endorsement di Salvini per un candidato della Lega per la carica di sindaco di Pescara. È arrivata subito la risposta di Forza Italia con il coordinatore regionale Nazario Pagano che dice no a passi indietro sul sindaco la replica a Salvini che appunto rivendicava la candidatura della Lega. Vedete in queste foto Nazario Pagano, proprio il coordinatore regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri che è stato riconfermato consigliere regionale proprio con Forza Italia e in basso due dei possibili direi molto probabili candidati per la carica di sindaco di Pescara nel centro-destra, entrambi di Forza Italia ovvero Marcello Antonelli e Luigi Alboremascia che di Pescara è stato già primo cittadino ma per il carroccio spuntano già due nomi l'ex assessore Adelchi Sulpizio e l'ex presidente di quartiere De Renzi per la corsa a sindaco in quota Lega. No alla candidatura di Alessandrini, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle il presidente del Consiglio Pagnanelli contrario al secondo mandato di Alessandrini avvise il PD di discontinuità con il passato o sarà sfacelo da un Alessandrini all'altra perché Marco Alessandrini vuole ricandidarsi a primo cittadino in quota centro-sinistra Erika Alessandrini è pronta a correre con il Movimento 5 Stelle ma la scelta spetta agli iscritti lasciamo la pagina politica almeno per il momento parliamo di cronaca aeroporto velivolo colpito da un fulmine a Pescara e mezzo era a terra cancellato il volo all'Italia delle 6.50 per Milano e poi ancora a Pescara studenti a lezione dai cardiologi i medici dell'ospedale venerdì alla Cerbo per promuovere stili di vita corretti le sanzioni per la viabilità parliamo di questa storia che arriva da Pescara multato 100 volte nella ZTL deve pagare 12.000 euro il titolare di un'agenzia immobiliare ha ricevuto verbali tra 170 e 200 euro per aver violato la zona a traffico limitato in via Milano ma dice farò ricorso cancellate la ZTL da via Regina Margherita la rabbia dei commercianti che chiedono un nuovo provvedimento e poi due sub pescaresi ritrovano i dispersi a Santo Domingo Sergio e Luca Cipolla hanno partecipato alle ricerche di due italiani recuperati senza vita ieri nel lago El Dudu andiamo ancora avanti ci spostiamo a fondo pagina imprese a lezione di cultura digitale tutto esaurito per il primo seminario della Camera di Commercio Pescara Chieti e poi progetto Erasmus più studenti nello Sprar dei migranti il MIBE realizza un laboratorio artistico nella struttura per minori in lutto il mondo del commercio pescaresi addio a Venanzo Gigli aveva 89 anni è stato un pioniere nel settore dell'elettronica e poi due raccolte di fondi per aiutare la famiglia di Maurizio D'Aloia il titolare della palestra morto a 42 anni cronaca giudiziaria fino a in villa patteggiano i tre banditi e poi in basso vedete Blizza Antidroga Parco Florida di via Regina Elena l'area al setaccio di Forze dell'Ordine e Unità Cinofile proseguiamo siamo a Cepagatti chiude alle auto il ponte di Valle Mare da oggi scattano i controlli sulla staticità sismica dell'infrastruttura e poi professoressa Della D'Annunzio in missione nel Mar Cinese l'unica italiana della spedizione è di Franca Villa la professoressa Sara Satolli vediamo ancora avanti siamo alla pagina di Montesilvano sempre del centro Stella Maris il primo lotto di lavori supera il collaudo dopo l'ok dei tecnici agli interventi appena ultimati si passa alla seconda e ultima fase per far rivivere l'edificio che come leggiamo in alto in rosso ospiterà l'istituto alberghiero di Pescara e poi ancora Montesilvano concessioni balneari il comune avvia le proroghe incontro con gli operatori balneari proprio in vista della stagione estiva Foibe ricordare per i giovani il sindaco Maragno ieri alla cerimonia in piazza Guimol con gli studenti del Dascanio Città Sant'Angelo scontro di gioco calciatore si viene in campo paura durante la partita Renato Curi Angolana Fater 19enne in ospedale e poi tasse vase recuperato mezzo milione di euro siamo a Città Sant'Angelo l'assessore al bilancio le riscossioni sono aumentate del 64% ancora Città Sant'Angelo l'inda in arrivo nuovi mezzi per la raccolta porta a porta in basso a Pianella tre arberi monumentali si tratta di una quercia già censita nel 1791 di un pino e di un cipresso alberi che finiscono in un elenco nazionale siamo a Francavilla completamento del porto i lavori prima dell'estate dopo 12 anni vi attese la falsa ripartenza annunciata in autunno la struttura dovrebbe essere completata grazie al milione di euro in arrivo dal Cipe andiamo ancora avanti e ci spostiamo alla pagina della provincia di Pescara dell'area Vestina e della Val Pescara partiamo da Penne dall'Abrioni al Via gli Scioperi con quasi l'80% di adesioni ieri la prima delle 16 ore di astensione dal lavoro programmate dai sindacati invitiamo l'azienda ad un incontro per trovare soluzioni su orario e flessibilità queste le richieste dei lavoratori e noi andiamo a vedere a tal proposito il servizio che è stato realizzato per noi da Stefano Recanati Leonardo D'Addazio come annunciato questa mattina è partito lo sciopero di un'ora alla Brioni Roma Style di Penne un segnale forte questo da parte dei lavoratori dell'azienda ma questo potrebbe portare comunque anche un'apertura da parte dei sindacati il segnale è sicuramente forte perché l'adesione è stata sicuramente superiore anche se non abbiamo dati ufficiali sicuramente superiore al 70% che avevano bocciato l'accordo precedentemente il 21 dicembre però nello stesso modo noi vogliamo dire all'azienda che siamo pronti a riaprire le trattative sia sulla flessibilità e soprattutto sull'integrativo anche perché l'azienda non può permettersi di toccare gli stipendi dei lavoratori già in difficoltà dalla riduzione dell'orario a 32 ore perché comunque l'integrativo è una grossa fetta economica per i dipendenti quindi è una grossa parte di welfare che aiuta i lavoratori l'azienda deve tornare al tavolo delle trattative noi abbiamo già chiesto l'incontro stiamo aspettando la risposta da parte dell'azienda abbiamo fatto la richiesta nel momento in cui l'azienda ha parlato di un contratto integrativo scaduto nel 2018 questo contratto invece era scaduto anche già precedentemente ma noi abbiamo sempre rinnovato nonostante potevamo chiedere qualcosa in più non l'abbiamo fatto perché l'azienda ci chiedeva di rinnovarlo perché era in crisi adesso sta facendo il gioco al massacro da questo punto di vista quindi vogliamo fermare questo questo gioco per tornare a trovare delle corrette relazioni sindacali sicuramente io metterò in campo anche la la parte dei consensi che ho ricevuto nell'area vestina proprio per influenzare queste tematiche e porterò all'attenzione del nuovo presidente Marsiglio la situazione che c'è nell'area vestina non solo per l'ospedale ma anche per le strade ma anche soprattutto da penne ci spostiamo a popoli truffe online in aula i clienti raggirati sotto accusa un sito di popoli centro pagina archiviazioni in rigopiano a luglio l'udienza fissata la data per discutere le sei opposizioni presentate da alcuni dei familiari delle 29 vittime in basso manoppello tariffe alte gli ambulanti vanno via la consigliera Toppi va dimezzata dice la tassa di occupazione poi torre dei passi rivedete questo titoletto in grigio bollette H termini posticipati siamo a Chieti violenza sessuale la sentenza ragazzini abusati 12 anni all'allenatore andiamo più in basso le reazioni giustizia fatta buttate le e chiavi familiari delle vittime usciti dall'aula durante la ringa difensiva elezioni le ripercussioni a Chieti via le grandi manovre piano per il nuovo sindaco si fanno i primi nomi per il dopo di primio che nel 2020 non potrà più ricandidarsi Vitale di Forza Italia attacca la giunta se sono ribocciati al voto andrebbe dimezzata e poi il consigliere non eletto Raimondi candidato con il centro e sinistra regionali riparte dai debiti del comune e intanto anche gli avvocati tornano alle urne a giugno si voterà per l'elezione del nuovo presidente dell'ordine degli avvocati la cronaca vasto tir sbanda sul ghiaccio pendorali fermi disavventura per i passeggeri del bus Cerella diretti a Napoli bloccati per oltre un'ora e a Lanciano arrivano i primari a ortopedia e medicina l'AS sblocca i concorsi conto alla rovescia per le nomine siamo a Teramo nuovi imprenditori il caso del direttore di gara dell'arbitro di Serie A Calvarese che dalla Serie A passa agli alveari l'arbitro infatti ha fondato Ape Regina e lancia prodotti per sportivi frutto di studi scientifici con l'università di Teramo andiamo avanti picchia la moglie dopo l'udienza di divorzio Teramo il tunisino già a processo all'Aquila per le minacce al giudice Filippello e a processo per violenza privata e lesioni non paga le borse al fornitore a giudizio una commerciante sempre a Teramo e sempre a Teramo corre dietro ad un autobus tua che lo urta ferito un uomo alla rotonda di Cartecchio il dopo lesioni a Giulianova Mastrilli sarà la Lega a guidare Giulianova il coordinatore locale dei Salvignani il più votato in città possibile seggio per Cardinali dopo le regionali Atri Pineto e Silvi senza seggi ma c'è una speranza per Astolfi l'ex sindaco di Atri potrebbe andare all'emiciclo con la nomina di due assessori di Forza Italia e ad Atri morto il poeta dialettale Antonio Antonino Anello aveva 95 anni in basso Borsa del Turismo Parco Marino e DMC alla Bit di Milano dunque le bellezze del Parco Marino di Pineto in evidenza la Borsa del Turismo siamo all'Aquila alla pagina dell'Aquila ma in realtà siamo nella Marsica d'Avezzano il dramma della povertà una pensione da miseria si uccide la sessantenne percepiva un assegno di 290 euro al mese l'ultima telefonata al vicino che ha provato a fermarla e a San Benetto dei Marsi scomparso dopo un litigio con la madre le ore precedenti alla sparizione di Dorazio ricerche senza esito da 14 giorni violenza sessuale la sentenza siamo all'Aquila palpeggia una ragazza a 14 mesi di carcere condannato un uomo di 51 anni che ha molestato una diciottenne a Sulmona 82 anni aggredita e ferita nella sua villa la pensionata colpita la testa trovata dalla sorella il rapinatore in fuga con il bottino tornando ad Avezzano malato di Sla attendo la carrozzella da 8 mesi lotta alla burocrazia denuncia di un pensionato e appello al manager della ASL siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per qualche istante andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero ripartiamo da pagina 2 dalla politica ovviamente lega nodo assessori non ci sarà giuliante presidente Marsiglio sembra escludere infatti esterni con la presidenza del consiglio però in bilico spunte il rebus dell'equoterosa del carroccio le due donne elette e poi c'è i tristi rotondi accusa cannonate contro di noi lo abbiamo ascoltato prima numero dei seggi bagarre legnini sospiri debacle 5 stelle dentro il partito si apre il processo la Marcozia la seconda sconfitta se la prende con la legge elettorale solo il silenzio dai vertici del partito Colletti sembra aprire al civismo e tra l'altro il più eletto nel consiglio regionale proprio alle ultime elezioni è stato Domenico Pettinari proprio del movimento 5 stelle oltre 9.600 candidature per il consigliere regionale Penta Stellato sempre al fianco dei più deboli Pettinari che ha incentrato proprio la sua politica nei quartieri più a rischio di Pescara di Rancitelli di San Donato del quartiere di Fontanella allora se la regia è pronta possiamo andare ad ascoltare proprio le parole di Domenico Pettinari che abbiamo avvicinato proprio ai nostri microfoni Pettinari il più votato alle ultime elezioni alle elezioni di domenica scorsa ascoltiamolo è Domenico Pettinari del movimento 5 stelle il consigliere regionale lo sarà ufficialmente a breve più votato alle ultime elezioni oltre 9.600 preferenze Pettinari un grande risultato che stona un po' con il risultato non esaltante però del movimento 5 stelle un grande risultato a dimostrazione che non abbiamo mai abbandonato il territorio mai abbandonato la nostra gente siamo sempre stati nelle aree interne nelle periferie ma anche nei centri nevralgici nelle nostre città soprattutto abbiamo ascoltato e cercato di dare risposta ai bisogni della gente laddove non c'era nessuno laddove non andava nessuno nelle periferie in mezzo alle case popolari a lottare contro la criminalità contro i delinquenti a metterci la faccia a rischiare la vita a batterci per una sanità pubblica che funzioni un trasporto pubblico che funzioni per una viabilità sicura per la valorizzazione e la ricchezza delle nostre aree interne purtroppo i cittadini ci hanno messo in opposizione rispettiamo la volontà dei cittadini di coloro che hanno deciso così faremo un'opposizione dura senza sconti senza fare compromessi sulla pelle dei cittadini come abbiamo sempre fatto forti e determinati noi ci siamo stati noi abbiamo una storia alle spalle gli altri fanno solo chiacchiere e filosofia politica portate a casa nonostante tutto sette consiglieri regionali uno in più della passata legislatura sì uno in più della passata legislatura una grande pattuglia che può fare una buona opposizione costruttiva ma senza fare sconti e arrivare fino in fondo con coraggio ecco non basta essere onesti competenti e professionali in politica ci vuole il coraggio il coraggio delle proprie scelte il coraggio anche per arrivare oltre fare anche denunce all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino profili penalmente livellandi o l'illegalità io ho sempre combattuto anche la lotta degli sprechi grandi sprechi grandi sperperi di denaro pubblico cose che non ha mai fatto nessuno un'unica forza che si batte per queste cose e continueremo a farlo con massima attenzione ai territori restiamo al movimento 5 stelle Grillo da Bologna restituiteci 700 milioni dell'anno scorso attuonato Grillo rivolgendosi agli abruzzesi Alto Sangro la montagna senza eletti fuori liberatore di Donato e Donatelli siamo a Pescara sindaco la Lega De Renzi in pole position l'ex presidente del quartiere 2 pronto alla chiamata ma potrebbe anche essere ripescato nel consiglio regionale scelte di campo a Montesilvano anche Maragno in mezzo al Guado si voterà a Pescara a maggio ma si voterà anche a Montesilvano Modello Legnini anche per Pescara Alessandrini pronto al passo indietro in commissione l'accordo sul filo a breve Tonelli presidente di Tua cambiamo ovviamente argomento in questo caso illustrare ai consiglieri l'intesa raggiunta con l'azienda per completare l'opera nel frattempo proseguono i lavori su banchine e marciapiedi della strada parco mentre continua la battaglia dei comitati scacco agli spacciatori di Parco Florida applausi delle mamme per gli agenti e poi arancia meccanica in casa Cericanta oltre 12 anni di carcere ai rapinatori telecamere il Viminale trova intanto i soldi per Pescara nell'ambito del decreto sicurezza i soldi per il tablet spariti un test svela la truffa online via il processo contro un operaio di Popoli che aveva creato un falso sito e-commerce i due complici hanno già patteggiato Rigopiano fissata l'udienza di opposizione il 10 luglio dal GIP i ricorsi contro l'archiviazione di 18 indagati e lo stralcio di reati per altri 4 via gli scioperi alla Brioni adesione altissima in strada 7 operai su 10 abbiamo visto prima il servizio siamo alla pagina dell'Aquila giunta comunale si cambia il rimpasto sarà quasi totale rivoluzione alle porte via Liris e Imprudente ma anche Luigi Deramo Bignotti e Petrella pronti del Beato e Ferella in quota Carroccio lancia per Fratelli d'Italia anche Raffaele e Daniele per l'Udc sotto servizi i cantieri rallentano gli scavi nei vicoli e poi il caso stuprò una studentessa Tuccia torna libero senza eletti la Marsica ora recrimina gli strani voti in tandem con la Scoccia arrivati a Cipolloni che pure aveva ritirato pubblicamente la propria candidatura sul Mona arrivano due stazioni sismiche temporanee e poi Avezzano si sente sola muore gettandosi dal quarto piano ancora la politica in questo caso sul Mona vertice di maggioranza ed un rimpasto in giunta e settimana santa appello sempre a sul Mona alle associazioni l'assessore della cultura bencivenga sta predisponendo un cartellone di eventi ad Ortucchio torna lo spettro del piromane delle auto a San Benetto De Marsi pensionato scomparso un caso nazionale siamo alla pagina di Chieti del messaggero abusi sui bevi allievi condannato a 12 anni l'allenatore di baseball e poi alla Civitella l'amore al tempo dei romani un San Valentino speciale malore fatale per un inimpiegato comunale la tragedia accaduta proprio a Chieti in basso San Buceto timori per la sorte degli alberi di via Mendola e poi al Sacrario della Resistenza l'omaggio ai caduti Teatini memoria e dovere in questo caso in primo piano siamo a Lanciano via Corsea fuori dall'isolamento installati i semafori da domani scatta la nuova viabilità vasto scuole a secco nel vastese gli studenti a casa e poi il dopo voto dal flop degli assessori al record di Campitelli nell'area frentana Treiva stessi in consiglio regionale Marco Vecchio Smargiassi e Bocchino Nuoveletti male invece gli esponenti della giunta ad Ortona celebrati i cento anni dell'istituto nautico a Lanciano c'è un incontro con Dacia Maraini con la scrittrice per parlare di cultura ma anche del tema donne tra diritti e letteratura siamo alla pagina di Teramo del messaggero le strade ridotte ad un colabrodo Cermignano chiude la strada provinciale situazione critica anche a Pietralta D'Angelo minaccia lo stop a tempo indeterminato alle auto picchia la moglie e suo legale aveva minacciato il giudice Filippello e poi la Marroni per Marsiglio d'Alberto nessun rimpasto il vice sindaco per il centro destra ma nessuno per ora ha chiesto la sua testa il civismo è chiaro in basso rogo della Serplast la proprietà patteggia e poi l'incidente è accaduto ieri operaio investito da un autobus è grave vediamo la pagina dell'area costiera della provincia di Teramo 12 candidati e tutti bocciati la Lega pensa al sindaco indicando il nome Mastromauro in lista qualcuno non per vincere ma per remare contro di me e poi ancora Giulianova nasce la consulta per gli eventi in città spostiamoci in Val Vibrata nella zona nord della provincia di Teramo Maria Rossa l'arta colpa di un'alga scintillante c'era stato questo allarme a Martinsicuro per quest'acqua colorata di Rosso e poi Roseto il borsacchio ripulito per evitare esondazioni Silvi via l'Eternit dall'ex Pollaio ora l'area verrà bonificata ad Alba Adriatica a Bambinopoli via ai lavori per metterla in sicurezza siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano la città ripartiamo anche in questo caso dal dopovoto iniziate infatti le manovre per formare la giunta regionale le previsioni un assessore per provincia la Lega uno a Forza Italia e uno ad azione politica Vincent Fanini il centrodestra unito vince e convince ha detto il coordinatore provinciale Terramano di Forza Italia e intanto rifiuti primo avvertimento da Marsilio alla Raggi il caso Udc la scoccia vuole restare in maggioranza l'abbiamo appena ascoltata pochi minuti fa ai nostri microfoni con Gianfranco Rotondi e poi abbiamo tenuto contro un forte vento di destra parla l'ex assessore regionale Dino Pepe che è stato rieletto consigliere regionale intanto l'auspicio di Legnini dura appena un giorno il PD che fa riferimento a Giacchetti chiude al progetto del nuovo Ulivo 5 Stelle Di Maio si eclissa dopo la batosta abruzzese spaisamento tra i pentastellati e preoccupazione nella Lega per il lungo silenzio del Vice Premier a urne chiuse si continua intanto a litigare sull'attribuzione dei seggi consigliari Movimento 5 Stelle perde voti questo l'analisi numerica delle elezioni in favore di Marsilio ma c'è anche da fare i conti con l'astensionismo Teramo gli sfollati diventano quasi 6.500 a 28 mesi dal sisma con la ricostruzione che non c'è aumentano ancora i numeri del problema e Vito Crimi sottosegretario nel cratere deve ancora capire come semplificare la ricostruzione in basso chiusa per Frana lo abbiamo visto anche prima la provinciale 36 per Cermignano non c'è pace per le arterie stradali dell'entroterra Teramano un altro consiglio question pieno di nulla aveva ragione il consigliere l'ancione siamo a Teramo meglio destinare il costo dei gettoni alla manutenzione delle buche intanto il sindaco d'Alberto rimpasto e crisi non sono dice il primo cittadino in agenda presentate alle frazioni le ecoisole dei rifiuti non si sa ancora dove verrà avviata la sperimentazione il comune di Teramo preoccupato dagli ambientalisti il progetto bell'uomo ignora la soprintendenza nonostante le rassicurazioni del comune sarà molto difficile rispettare i rilievi sui beni di valore storico investito da un bus alla rotonda siamo alla cronaca cartecchio 48enne Teramano ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo e l'ASDR spreca altri 367 mila euro per la manutenzione dell'ex manicomio i lavori di messa in sicurezza necessari per evitare pericoli alla pubblica incolumità delle strade circostanti in basso istituto zooprofilattico Verna insiste con una soluzione alternativa a campo della fiera e consigliore contrario alla cessione dell'ex mercato all'ingrosso e propone un terreno a terra bianca siamo a Civitella di Ponzano che guarda il futuro a due anni dalla frana il comitato dei cittadini 1302 organizza un incontro con le istituzioni in occasione dell'anniversario e a Tortoreto le tribune del palazzetto dello sport saranno riaperte a breve in basso Martinsicuro svelato il mistero della Marea Rossa si tratta di microalghe nessun rischio per la salute pubblica dice l'Arta Val Vibrata siamo a Tortoreto lo stalker Bresciano finisce in carcere il giudice che inasprisce il provvedimento nei confronti dell'uomo ma ancora Martinsicuro cittativa magra figura della maggioranza alle elezioni regionali siamo alla pagina di Giulianova è confermato il festival delle bande musicali che si terrà dal 28 maggio al 2 giugno nella tradizionale location di Giulianova e poi ancora Giulianova ma parlando di politica la Lega Gongola Mastro Mauro tace ma Strilli già pensa alle amministrative dopo l'esqua delle regionali in basso è nata la consulta delle associazioni Giuliesi l'obiettivo è avere più peso per superare i problemi organizzativi durante gli eventi il dopo voto a Roseto guerra di numeri sulle elezioni regionali le opposizioni leggono una sconfitta della maggioranza PD soddisfatto dal risultato di Teresa Ginobile e a Silvi dopo le regionali Enrico Marini lascia la politica attiva l'annuncio del medico ex centrodestra proseguirò la mia professione con dedizione siamo ancora a Roseto al via lavori anti esondazione al Borsacchio questo è il titolo di apertura di pagina 16 il letto del torrente rosetano sarà messo in sicurezza dalla provincia dopo la sollecitazione del comune in basso Silvi nuove antenne telefoniche solo nelle zone lontane dai siti sensibili l'amministrazione comunale risponde alle sollecitazioni dei cittadini sull'inquinamento elettromagnetico 3.000 spettatori riempiono il pala Maggetti sport per la vita un assegno di 42.000 euro donato alla Lega della Fibrosicistica Bruzio e al progetto Bambini dell'Unità Alzi grande successo per questa iniziativa che ormai da anni si svolge al pala Maggetti di Roseto e anche in questa circostanza grande spettacolo e gran folla sugli spalti siamo arrivati alla pagina della cultura bufale storiche fake news nell'incontro con Aristarco lo scrittore per ragazzi ha presentato il suo libro all'istituto comprensivo di Corropoli Colonnella e controguerra siamo arrivati così alle pagine dello sport iniziamo con i quotidiani nazionali Gazzetta dello sport una pace di nome Wanda in casa Inter si cerca di tornare alla tranquillità dopo le polemiche relative al bomber della formazione nera-azzurra Icardi intanto Spalletti Marotta patto contro Lady Icardi dunque bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda con il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare intanto la Roma in Champions League si gode uno Zaniolo in grande forma segna due reti ma poi il Porto segna invece un gol e tutto verrà deciso il 6 marzo Roma che ha battuto il Porto per 2 a 1 e poi un titolo che riguarda il Milan Rino al Max il Milan torna in alto dopo 6 anni Gattuso riporta i rossoneri al quarto posto mai raggiunto al ventitresimo turno dai tempi di Massimiliano Allegri e poi in casa Juve futuro Juve così Ramsey libererà di bala vediamo il Corriere dello Sport una favola Bevi Zaniolo illumina la Champion della Roma in alto Juve Bond per la Cassa Inter prove di disgelo infine tutto sport Zaniolo vedete in alto Re di Roma poi di bala per Salah che a fare e poi un titolo che riguarda sempre il nostro calcio Stadio Atalanta si parte il 28 aprile dunque si parla in questo caso della formazione Nerazzurra di Gasperini che sta regalando grosse soddisfazioni ai suoi tifosi con una grande stagione Atalanta in corsa per la Champions League per un posto in Champions League siamo allo sport del centro doppio Zaniolo la Roma può sperare 2 a 1 con il Porto il 19 attaccante firma il successo di misura sui portoghesi Addio Banks l'uomo della paratona su Pelè portiere inglese campione del mondo del 1966 muore a 81 anni nel 1970 il suo intervento la sua parata più bella prestito obbligazionario per fare una Juve più forte la società emetterà bond tra 100 e 200 milioni di euro entro giugno e poi calcio malato la sentenza del TFN soldi in cambio di un contratto 5 anni disqualifica a Di Nicola dopo la denuncia in televisione vediamo la pagina della serie B che riguarda il Pescara Marras è intoccabile Pillon e Blind e il Giolli esterno e trequartista il tecnico non rivoluziona le gerarchie di squadra attaccante scusate è inamovibile anche nel nuovo modulo 4-3-1-2 così facendo Antonucci Sottil Capone e Del Sole rischiano di restare ai margini tanti attaccanti esterni in organico per il Pescara intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata lo svedese del Crotone Rodien Crotone che dunque affronterà il Pescara senza il suo centrocampista e poi il Benevento ingaggia il polacco Vokic continua il mercato ovviamente in questo caso con gli svincolati e intanto per Crotone Pillon valuta anche il 3-5-2 Gravilone del Grosso al rientro dopo la squalifica a Benevento intanto nel turno infrasettimanale del 26 febbraio la gara non si giocherà più alle 21 bensì alle 18 c'è stato questo anticipo comunicato dalla Lega Serie C Biancorossi K.O. Affano squadra di Epifani che si aggiudica il match per 1-0 niente bis dopo il colpo contro i Rimini diavolo spento e mai incisivo Celli regala i tre punti all'ex Epifani vediamo gli altri risultati della giornata Albino Leffe Ternana 2-1 prosegue la crisi nera dei Rossoverdi Umbri Fermana Cubbio 0-1 Pordenone Vispesaro 1-0 Ravenna Gianerminio 1-1 Virtus Verona Renate 0-1 Imolese San Benedettese 0-0 Monza Vicenza 2-0 Rimini Feralpisalo 1-3 Triestina Sud Tirol 0-0 Siamo alla Serie D Avezzano la chance di la nera oggi in panchina il vice dell'esonerato Gianpaolo se fa risultato potrebbe essere confermato oggi c'è il turno infrasettimanale lo ricordiamo in Serie D Bastese rimaneggiata ma serve il riscatto a Recanati e poi Giulianova cambia c'è De Fabritis sul campo della San Giustese Pineto torna Mazzei nella sfida di Iesi conferma per la coppia Pepe Pomante in difesa e poi Francavilla arriva il Castelfidardo recuperati Palungbo e Banegas e poi Notaresco che giocherà sul campo dell'Isernia Cudini sfida Silva che l'ha allenato ad Ascoli e poi invece ci sono dei recuperi oggi nei campionati dilettantistici regionali in eccellenza spicca Amiternina acqua e sapone siamo al basket Roseto cerca una spinta playoff questa sera si giocherà la gara di Iesi gli Sharks a caccia di un altro colpo esterno per alimentare le ambizioni e chiudere il discorso Salvezza Tennis Ciccolo Tennis Pescara Bene Trivulzio e Bonafede siamo alla pagina che riguarda il podismo il nuovo calendario del 2019 è ufficiale da Martinsicuro a Chieti un anno di corsa con il programma delle manifestazioni organizzate dai vari enti sportivi siamo allo sport del messaggero Pescara guarisci dalla pareggite nelle prime quattro partite del giro di Boa Pillon ha ottenuto tre punti in tre pareggi del fino lontano dalla media d'andata se non inverte la rotta addio playoff Brugman e compagni domani foto e abbracci con i tifosi nuova iniziativa della società bianca azzurra e poi basket Sharks a Iesi a caccia di un'altra vittoria Roseto cerca un successo per alimentare i sogni playoff nel campionato di serie a due maschile di basket Teramo capo a Fano infrasettimanali tabù capo di misura per i biancorossi nello scontro salvezza di Fano decide un gol di Celli vediamo anche la serie D notaresco a campo basso per restare in zona playoff tra i mister Cudini e Silva regna antica amicizia ma qui c'è un errore perché il notaresco non giocherà a campo basso bensì a Isernia alle 15 allo stadio Lancellotta contro la formazione Bianca Azzurra ancora vastese tre rinforzi per non retrocedere Bolami tratta qui svincolati dalla serie C e poi Real Giulianova servono punti a Monte San Giusto rientrerà De Fabritis Andiamo a vedere anche le pagine dello sport del quotidiano La Città prima di salutarci vediamo di recuperare la pagina eccola qui che riguarda il Teramo Teramo non pervenuto ieri sera nel campo del Fano che vince facile 1-0 prestazione scadente della formazione di Maurizio mai pericolosa lo scontro diretto ai marchigiani gol di Celli al quarantesimo del primo tempo abbiamo visto prima i risultati della giornata spicca per esempio la vittoria dell'Albinoleff con la Ternana per 2-1 Albinoleff che ha abbandonato l'ultimo posto in classifica vediamo proprio la classifica per quel che concerne le zone basse con il Renate a 30 Teramo Fano e Rimini a 27 Gianerminio 25 Albinoleff a 22 Virtus Vencom Verona 21 il Teramo è a 2 punti dalla zona play out prossimo turno 16 febbraio Bispeso Rabbinoleff Sud Tirol Gubbio Teramo Monza partita difficile contro la formazione del presidente Berlusconi Ternana Triestina Vicenza Fermana Renate Pordenone Feralpi Salora Venna Gianerminio Virtus Vencom Verona Rimini Molese San Benedettese Fano ma noi andiamo a vedere e diamo lo spazio alle immagini il servizio di Jacopo Forcella sulla sconfitta del Teramo ieri sera a Fano Il Teramo più brutto della gestione Maurizzi senza dubbio cade di misura in uno sconto diretto quello contro il Fano il Mancini si conferma campo stregato per la formazione Biancorossa che perde 1 a 0 uno sconto diretto con i rivali marchigiani che l'agganciano in classifica quota 27 punti partita non ricca di emozioni tutt'altro con la squadra di casa che si fa preferire sia nel primo che nel secondo tempo è superiore su tutti i fondamentali al nono il rientrante attaccante Scardina devia una punizione di Liviero senza trovare però dei compagni pronti a correggere in porta ma le punizioni di Liviero sono un problema per il Teramo infatti al 40esimo il gol vittoria arriva proprio dal calcio piazzato del giocatore che era arrivato qualche settimana fa a Pescara e poi è stato trasferito proprio in Granata una punizione che trova la testa di Alessandro Celli uno che a Teramo doveva arrivare quest'estate prima di prendere una via diversa quella Granata il pallone sul secondo palo Gomis forse vede partire tardi il pallone sta a guardare la sfera che si insacca sul secondo palo per il gol che deciderà la partita perché nella ripresa di fatto non succederà praticamente più nulla Maurizzi richiama Sparacello per Barbuti ma anche il numero 19 non avrà quell'impatto che ci si attende quando una partita va recuperata termo che praticamente si fa vedere solo nel finale con un tiro ciccato da buona posizione peraltro di Saveriano Infantino dall'altra parte invece Ferrante Scardina ma anche Filippini che parte nel 3-4 1-2 un po' a sorpresa di Epifani giocano decisamente meglio rispetto agli avanti bianco-rossi una sconfitta dunque sanguinosa che fa fare più di un passo indietro alla formazione di Maurizzi adesso agganciata a quota 27 proprio dai rivali di Epifani e che sabato pomeriggio devono riscattarsi contro il Monza per una gara contro una big del campionato al Bonolis servirà assolutamente un risultato positivo per uscire da queste montagne russe in cui il Teramo una partita la gioca bene e l'altra male e dunque termina 1-0 con il Teramo che cade ancora in uno scontro diretto e stavolta fa davvero male e sì una brutta battuta d'arresto per il Teramo che come diceva Jacopo Forcella nel servizio tornerà in campo sabato al Bonolis con il Monza noi abbiamo concluso l'appuntamento di oggi con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa che ritroverete domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo gli appuntamenti di oggi con l'informazione alle 14 alle 19 alle 23 con le nostre edizioni del TG6 ma a proposito di sport non perdete due appuntamenti che riguardano il campionato di serie di turno infrasettimanale alle 14 e 30 e ci sarà diretta stadio per seguire tutte le gare delle formazioni abruzzesi e questa sera alle 19 e 30 l'Abruzzo del pallone per rivedere le immagini e i servizi delle partite delle nostre formazioni è davvero tutto grazie e buona giornata